Prosegue l'attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato in provincia, finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti per porre un freno al mercato dello spaccio e contrastare il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. Nell'ambito di tale attività, nei giorni scorsi a Modica, gli uomini della squadra mobile del commissariato con il supporto delle unità cinofile della Questura di Catania hanno tratto in arresto uno straniero per il reato di detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente come cocaina e marijuana. Si tratta di un giovane, da qualche anno domiciliata a Modica, e noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia in materia di stupefacenti. L'operazione della Polizia Giudiziaria è iniziata con alcune perquisizioni effettuate presso il centro storico di Modica nei confronti di alcuni soggetti gravati nell'ambiente della tossicodipendenza, si è conclusa con controlli estesi nel quartiere Vignazza, dove i poliziotti hanno identificato lo straniero che è stato sottoposto a perquisizione personale domiciliare con esito positivo. Infatti, grazie anche all'infallibile fiuto del cane antidroga Nikoi, il cane di razza Marinois addestrato dalle unità cinofile per la ricerca di sostanze stupefacenti, all'esito della perquisizione è stata rinvenuta oltre 25 grammi di sostanza stupefacente come cocaina, già in parte confezionata in dosi e pronta per l'immissione del mercato. Inoltre, sono stati anche rinvenuti 30 grammi di marijuana, nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente in singole dosi e la somma in contanti di circa 1000 euro in banconote di vario taglio. L'arresto, dopo le formalità di rito, è stato collocato agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria. All'udienza di convalida, il GIP del Tribunale di Ragusa ha convalidato l'arresto applicando all'uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.